Mai farlo con un uomo. Quali sono gli errori che non devi mai fare con un uomo? Come attirare un uomo e farlo impegnare? Allora, è possibile ottenere una dipendenza da un uomo senza manipolarlo, ma semplicemente generando attrazione e senza nascondere la propria personalità. Alcuni schemi distruttivi si ripetono perché non cambi le tue abitudini. Si instaura un circolo vizioso, spesso con l'impressione di non sapere come tenere un uomo e vivere una relazione d'amore, una relazione sentimentale, affettiva, appagante. Essere consapevoli che ci sono degli errori da non fare con un uomo e conoscere i segreti della psicologia maschile dà un vantaggio a una donna durante il periodo della seduzione e anche nella fase successiva. La società e l'educazione, diciamo, non aiutano da questo punto di vista perché la cultura non insegna come conquistare, come sedurre, come far innamorare. Ci siamo abituati a credere che dobbiamo dare tutt'all'altro per resistere ai suoi occhi e purtroppo questo è il modo migliore che una donna può avere, può fare per spaventare un uomo e per allontanare un uomo e per far sì che un uomo, uomo, diciamo, non ti prende in considerazione, si allontani e se ne fotta di te. Quindi volendo soddisfare eccessivamente i bisogni dell'altro finisci per essere conquistata perché metterai delle energie e come ho detto in tanti video vale un po' la legge che più energie dedica una persona, più ti innamori più ti coinvolgi. Meno energie dedichi meno ti innamori meno ti coinvolgi. Volendo soddisfare il bisogno dell'altro quindi finisci per innamorarti e non per far innamorare. Per attrarre un uomo è necessario valorizzarsi per diventare indispensabile ai suoi occhi. L'errore comune, più comune è diventare ciò che l'altro vuole, è cambiarti, modificarti, trasformarti. Questo è un grave errore che dovresti sempre evitare di fare. Un altro errore da evitare con un uomo durante il processo di seduzione è, diciamo, iniziare a dire ma io voglio sposarmi, ma io voglio una relazione seria, ma io voglio qua, io voglio là. Anche questo è un grave errore. Perché metti subito dei vincoli logici e questo è un grave errore. Intanto, come ho detto prima, se tu soddisfi i bisogni, soddisfi le esigenze, vai a gratificare la sua parte logica, ma non dai emozioni fondamentalmente. E quindi, come dire, tutto al più ti vedrà come un'amica oppure come una donna da sfruttare. In più, se tu, magari sessualmente, in più se tu metti subito dei vincoli logici, io voglio una relazione, voglio una famiglia, voglio dei figli, voglio qua, io voglio là, anche in questo caso non otterrai assolutamente nessun risultato. Perché non otterrai nessun risultato, ma per un fatto molto semplice, che un uomo non si innamora, diciamo, un uomo non si innamora se tu gli metti dei vincoli logici. Anzi, i vincoli logici fanno scattare dei meccanismi di difesa. Un uomo si innamora se tu metti dei vincoli analogici, cioè nei fatti, non devi dire assolutamente nulla. Quindi questo è un grave errore, diciamo, mettere un vincolo logico. Devi quindi cambiare le tue abitudini e fare esattamente il contrario, utilizzare un po' la psicologia inversa. Infatti un altro grave errore, questo poi adesso vedremo cosa fare con la psicologia inversa, ma un altro grave errore da evitare durante, diciamo, sia la fase di seduzione, sia anche quando è iniziata una relazione, un altro grave errore da fare è quello di essere completamente, diciamo così, allineata, come possiamo dire, alle sue esigenze, cioè diventare completamente prevedibile. Se lui ti dice vediamoci il sabato sera o vediamoci il martedì pomeriggio al parcheggio del cimitero, tu accetti, crea un'abitudine, beh, possiamo dire che non è che il matrimonio è la tomba dell'amore, ma la tomba dell'amore è l'essere, diciamo, come possiamo dire, è l'essere prevedibile, perché nel momento in cui diventi prevedibile per un uomo, lui non ti prenderà più in considerazione come donna interessante, non darai anche qua emozioni. Questi sono i tre grandi errori, tre grandi errori quindi che, lo ripeto, sono da un lato essere eccessivamente compiacente e gratificare le esigenze logiche. Il secondo grave errore, diciamo, è quello di mettere dei vincoli logici, cioè presentarti come una che subito dice quello che scopre le sue carte, quello che vuole, gravissimo errore. E il terzo grave errore è la prevedibilità. Quindi che cosa devi fare? Quali sono? Se ci sono delle cose che non devi fare, quali sono le cose che invece sarebbe bene fare, dovresti imparare a fare? Beh, dovresti fare il contrario. Quindi non gratificare le sue esigenze logiche, ma le esigenze emotive. O comunque le esigenze logiche vanno gratificate parzialmente, soltanto una volta che sono state gratificate le esigenze emotive. Il che vuol dire che devi stimolare emozioni. Quindi, ad esempio, può essere molto utile farlo parlare, in modo tale che più parla, più si apre, più si apre, più le idee emozioni sfrutti la tecnica del transfer, dell'analisi, della psicanalisi, e questo è molto importante. La seconda cosa, i vincoli devono essere analogici, cioè non gli chiedi niente, ma se lui vuole vederti, dovrà fare qualcosa, dovrà invitarti a cena in un bel ristorante, perché se non ti invita, tu non ci sei. Guarda un po', caso strano, se lui ti invita al parcheggio del cimitero, ecco il cavolo che ci vai. Quindi vinco gli analogici, ma di fatto non gli dici niente. E poi essere imprevedibile, essere misteriosa, non dare riferimenti, un po' esserci, un po' non esserci. Lui deve pensare che ci sono tanti uomini che ti desiderano, che ti vogliono, che vogliono avere una relazione con te. Quindi devi essere totalmente imprevedibile, non deve assolutamente in nessun modo poter pensare che tu sei una lì disponibile, pronta, insomma. Ecco, queste tre cose in sostituzione delle tre che non vanno bene ti consentiranno invece di essere molto più seducente, seduttiva e farli innamorare. E queste sono, come dire, per fare tutto questo devi imparare a mantenere il distacco del risultato. L'arte del distacco del risultato è fondamentale. Distacco del risultato vuol dire che non devi essere attaccata, diciamo, e non devi avere nessunissima paura né di perderlo, né di conquistarlo, né di essere rifiutata. Mantenerti completamente libera, ecco queste sono le cose migliori per riuscire a sedurre, a conquistare un uomo e a farli innamorare. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale.